Consegnati stamane in municipio Montesilvano la presenza di Andrea Scerretta, papà della piccola Noemi, la bambina di Guardiagrelle affetta da atrofia muscolare spinale, i fondi raccolti dalla Polizia Municipale in occasione del tradizionale quadrangolare di calcio svoltosi lo scorso gennaio tra le varie forze di polizia. 1.258 euro che saranno utilizzati dall'associazione per una serie di iniziative. In 20 anni di attività a spesa nella sociale la Polizia Municipale di Montesilvano ha allergito contributi per circa 80.000 euro. Scerretta invece è la fondatore e presidente dell'associazione che opera per ottenere cura e migliori assistenza per i bambini con gravissime disabilità e per sensibilizzare sul tema dei disagi vissuti dalle famiglie e il riconoscimento del caregiver. Noi come associazione cerchiamo realmente di entrare nei problemi delle famiglie, di cercare di sensibilizzare alla conoscenza dell'isabilità gravissima pediatrica. Ovviamente sono degli obiettivi che possiamo raggiungere solo ed esclusivamente grazie alla solidarietà comune, a persone che comunque credono in quello che facciamo perché questi interventi che vengono fatti quest'oggi va a significare anche la realtà tangibile di quello che si sta costruendo perché è un rapporto che dura anni quindi hanno visto anche loro crescere i nostri obiettivi affinché si potesse dare una risposta alla disabilità. Noi abbiamo comunque reso operativo il primo centro di riferimento regionale per le malattie rare che è la subindenzia di Pescara. Abbiamo fatto sì che ci siano stati interventi per il caregiver familiare a livello regionale e stiamo aspettando di cominciare a lavorare, tra virgolette, perché noi è solo volontariato con la regione affinché si potesse rispondere alle fragilità che tuttora ci sono, esistono e non possono essere ignorate.